ciao alex fabrizio vitale gazzetta dello sport benvenuto ben trovato ci racconti un po come è stata la tua estate nel senso insomma dopo l'esperienza con venezia durata sei mesi che programmi c'erano nei progetti c'erano la tua testa che cosa è successo poi col palermo visto penso sia stata una cosa improvvisa buongiorno si ho fatto fatto sei mesi in venezia e poi rimasto a casa due mesi però io preparato ogni giorno con la mia squadra giovane dove ho iniziato quindi preparato la ogni giorno poi ho sentito non so tre settimane fa con con società e poi mi chiamato mister poi era tutto tutto veloce dopo dopo un giorno è arrivato qua e ora ora sono qua volevo chiederti che cosa rappresenta per te questa opportunità col palermo e come vedi questo ritorno a lavorare con corini col quale tra l'altro è conquistato una promozione in serie a ora secondo me sappiamo tutti se c'è qua secondo me grande grande futuro perché società qua è grande pure pure questa 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 squadra è sempre questa squadra è grande grande storia e secondo me sì ho parlato e lavorato lavorato con mister tanto non so tre anni fa quindi io conosco lui lui conosco me quindi secondo me possiamo lavorare per questo anno ci vediamo successo la prossima buongiorno benedetto giardina giornale di sicilia per te questa squadra quest'anno dove può puntare ad arrivare tu giustamente dicevi lavoriamo quest'anno e poi vediamo dal prossimo e poi per quanto riguarda le tue prime partite la difesa ha avuto qualche problema specialmente contro l'ascoli e contro la regina però contro il genoa si è visto un grande passo in avanti tu pensi che sia una questione solo di conoscervi meglio come squadra o c'è qualcosa in cui dovete migliorare grazie difficile secondo me ora dice diamo in serie a subito diamo playoff però noi dobbiamo guardare ogni la sta partita e poi vediamo però secondo me questa squadra è grande perché secondo me tutti guardiamo cosa cosa calciatore è arrivato qua con la grande esperienza quindi secondo me anche anche ambiente qua è bello quindi vediamo vediamo però secondo me questa squadra aveva futuro benvenuto ales ti volevo chiedere il fatto che tu puoi giocare a destra a sinistra può essere un vantaggio per la squadra o magari ti mette un po in difficoltà perché ti possono impiegare dove non preferiresti per esempio il fatto che tu in queste partite hai giocato a sinistra per un destro di solito è un po più complicato diciamo e poi se puoi dirci il nome della squadra giovanile dove ti sei allenato scusami no questo secondo me è posto perché se posso giocare a destra a sinistra anche a mezzo mi interessa cosa puoi dare la squadra se mi metterà a destra o centrale o sinistra io voglio fare dare il massimo per questa squadra quindi questo è importante anche secondo me per la squadra questo è giusto se posso giocare a destra a sinistra centrale quindi secondo me questo è solo 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 la cosa positiva il nome della squadra giovanile che tu hai citato prima a pribram pribram si chiama si benvenuto e tu quando hai lasciato Brescia ha detto che Brescia è stata importante perché ti ha fatto diventare un uomo Brescia è stata importante anche perché Corini ti ha fatto esordire in serie A insomma ti ha dato fiducia quali sono i tuoi obiettivi adesso col Palermo e soprattutto quanto è importante ripartire da questa piazza di nuovo con Corini grazie certo sempre dove sono io voglio fare sempre il massimo questa è la mia vita e questo lo devo fare sempre quindi vediamo ora è andato a Palermo a serie B quindi come ha detto prima noi dobbiamo guardare solo una partita e poi andiamo a fare il massimo e poi vediamo cosa succede ciao Alessio benvenuto tu sei uno dei giocatori che ha fatto più partite in serie B in generale nel campionato italiano quali sono secondo te i segreti per competere a così alti livelli in un campionato che forse a me come quest'anno forse nei anni passati è molto competitivo ed è soprattutto imprevedibile già i primi risultati lo hanno lo hanno detto grazie secondo me tutti sappiamo se questa serie B questo questo anno è troppo difficile perché sono qua questo campionato sono squadre grandi con il grande nome secondo me sono ora otto dieci squadre che volevo andare subito a serie A quindi per quello anche a serie B questo anno difficile quindi vediamo cosa succede Musso Sì buongiorno benvenuto e a proposito di grandi squadre sabato ci sarà una sfida molto importante contro il Frosinone non so è arrivato nello spogliatoio quanto questa partita è sentita in città per il per il passato che c'è stato Sì lo so questa partita con le tifose con noi importantissima lo so cosa succede non lo so tre anni fa o quattro anni fa quindi lo so sentiamo però noi dobbiamo lasciare lasciare in campo come solito tutto noi dobbiamo sentire solo questo e guardiamo solo la partita come solita però sentiamo se questa partita è un po' un po' sentirla Volevo chiederti eccomi qua che cosa vi ha lasciato dentro la vittoria sul Genoa era una partita sulla carta difficile in salita per anche per il percorso delle altre due sconfitte che cosa secondo te vi ha lasciato dentro e se può segnare un po' un cambio di marcia per la vostra stagione Prima partita sono sempre difficile perché noi siamo qua non so arrivato non so 11 12 nuovi calciatori quindi è normale secondo me se le prime partite sono un po' un po' strani non c'è un po' difficile però secondo me cosa è successo l'ultima partita e dobbiamo giocare così dobbiamo stare tosti aggressivi compatti e poi e poi possiamo vincere queste partite contro le queste grandi squadre come c'è Genoa e altre squadre quindi secondo me si scambiano un po' l'ultima partita belli stretti compatti e poi e poi possiamo giocare così Tullio Filippone Repubblica eh sì Tullio Filippone Repubblica e il col Genoa si è visto un po' che la squadra si sta amalgamando ecco secondo te anche perché conosci la categoria comunque quanto quanto tempo ci può volere per questo per fare per creare lo spirito di squadra in un gruppo che è molto 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 nuovo e poi sul livello personale ecco eh tu sei nel giro della nazionale ecco speri eh giocando a Palermo ecco comunque di 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 tornare in nazionale comunque di essere una presenza stabile per la tua nazionale ehm certo ma per me è importante se devo giocare ognuna partita e poi posso guardare anche nazionale nazionale quindi non so come era la prima domanda quanto tempo secondo te tu conosci bene la Serie B quanto tempo ci vuole per costruire un gruppo quando si è diciamo un gruppo così nuovo anche un gruppo molto valido però nuovo eh questo sembra sempre quasi come cosa è successo in Brescia tre anni fa quando io ho arrivato là arrivato anche altri ragazzi e prime partite erano così e poi si è scambiato dopo la partita secondo contro Palermo quando noi vinto 2-1 penso e poi si è scambiato tutto quindi penso se posso scambiare ora quando noi vinto contro Genoa secondo me ora si può scambiare tutto e noi noi dobbiamo dobbiamo guardare ora perché mi sono scambiare un po' questa frustrione un po' con la fiducia perché ho vinto a casa vediamo 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 però secondo me questa era la partita dove si può un po' scambiare grazie a tutti